Il Governo ha annunciato che l'omologazione degli autovelox sarà normata all'interno del disegno di legge di riforma del Codice della Strada, attualmente al vaglio dell'Ottava Commissione in Senato. La questione è stata posta all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, direttamente dal Senatore dell'Udc Antonio De Poli, durante il Question Time in Senato. Ritengo fondamentale l'istituzione presso il Ministero di un tavolo tecnico per la definizione delle regole per l'omologazione degli autovelox, in maniera tale da dare certezza e trasparenza a tutti i cittadini e i nostri amministratori. De Poli, incaricato della questione direttamente da sindaci e amministratori locali veneti, ha ribadito che la sicurezza stradale è un tema dell'agenda politica che non può avere colori di appartenenza e che gli autovelox, oltre 11.000 in tutta Italia, sono uno strumento di prevenzione e deterrenza. Un'ordinanza della Corte di Cassazione afferma che per il legittimo utilizzo dei dispositivi non è sufficiente la semplice approvazione, ma è necessaria l'omologazione e ciò aveva creato una situazione di incertezza amministrativa con il problema di potenziale illegittimità delle sanzioni combinate attraverso gli autovelox. Ora però, con la presa di posizione del Governo, si andrà verso una soluzione chiara e univoca per tutti.